Potevo batterlo quel teppista, batterlo a freddo, non avrebbe mai capito. Dovevo farglielo vedere a quel celtrone, a qui delinquente, com'è una partita giocata. Quando è bella davvero. Come può essere bella qualunque cosa. Qualunque cosa può essere bella, nessuna esclusa. Spaccar pietre può essere bello, se è ben fatto. Quando sai quello che fai e perché, e viene come, come, come vuoi tu. E quando succede a me, è una cosa fantastica. Mi sento come, come può sentirsi un fantino sul suo cavallo, con quella carica di energia stretta fra le ginocchia. Entra sulla dirittura, lo stringono tutti e lui, e lui lo sa, lo sente. Quando lasciarlo andare è quanto. Perché tutto risponde bene, ha la bestia sulla punta delle dita. Ragazzi, è una cosa fantastica. È qualcosa di grande quando sei bravo e lo sai che sei bravo.